Ciao fragoline e ciao fragolini! Allora, questo è un video speciale per i 3.000 iscritti che si sono iscritti al mio canale. Grazie per questo traguardo, cioè io sono diciamo contenta perché piano piano molte persone si iscrivono al canale e spero anche che tutti voi guardate i miei video e li guardate proprio tutti dall'inizio alla fine. Per cui questo video lo volevo dedicare a voi, a tutti i 3.000 iscritti, a quelli che mi seguono da tanti anni perché come sapete ho la grafica di chi mi segue da tanti anni e sono andata a vedere. Per cui prima di tutto voglio ringraziare quelle 2, 3, 4 persone che sono sempre presenti nei miei video. Per cui grazie a Ricette Risate in Pochi Minuti che è da quasi 6 anni che è iscritta al mio canale e mi segue sempre, guarda sempre i miei video e vedo sempre che commenta sempre sotto i video. Per cui grazie mille che mi sopporti, sei sempre presente e ovviamente ci iscriviamo anche in privato tramite Instagram. Per cui grazie davvero che ci sei diciamo per me perché per me è una cosa diciamo bella, specialmente fare nuove amicizie. Poi vorrei ringraziare Campanaro, grazie che anche lui è da ormai 7 anni più o meno che mi segue sul canale, anche lui è sempre presente sotto i miei video, li guarda tutti, commenta sempre. E anche con lui, specialmente mi scrivo in privato con lui tutti 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 i giorni e davvero sono felice perché ho anche un'amicizia con te diciamo sui social ma grazie veramente che ci sei sempre. E poi c'è anche Lorenzo, azzi miei, per cui grazie anche lui che ho visto che anche lui mi segue da un bel po' di anni, è sempre presente nei miei video, li guarda sempre e commenta sempre. Per cui grazie mille per il supporto e anche a Sara 15, Sara Magic 15, scusate ogni tanto vado in pappina con i nomi e grazie che anche lei guarda sempre i miei video, commenta sempre, è sempre presente e ogni tanto ci iscriviamo anche su Instagram. Per cui grazie specialmente a queste persone che sono sempre presenti, sia sul canale, su Instagram, cioè non solo perché guardano i miei video ma perché abbiamo anche un'amicizia. Oltre diciamo, cioè in senso piacerebbe vederli anche dal vivo, spero un giorno di incontrare anche un po' di persone. Per cui grazie sia a loro che mi seguono da tanti anni, ma grazie anche a voi che siete appena iscritti al mio canale, grazie a chi da pochi mesi mi segue, grazie davvero. Io ce la metto tutta e se volete vedere qualche video diversi, qualche video che vi piacciono, fatemelo sapere sotto in questo video. Ovviamente oltre a me, per fare, scusate, mamma mia, talmente l'emozione che c'è, non lo so più. Allora, volevo farvi anche ringraziare dai miei animali, da tutti i miei animali che sono presenti anche nel canale e che ovviamente saranno tanto presenti, specialmente i gatti, Perla, Budino, Fiocco, Sofia, Bea e Miki. Anche loro vi ringraziano, per cui adesso piano piano vi metterò delle clip di loro dove anche loro vi ringraziano davvero molto. E grazie davvero, grazie mille per questo traguardo perché piano piano diciamo che aumentiamo di iscritti e spero anche ovviamente sull'altro canale, sul primo canale che ho appena aperto, spero che anche lì almeno mille iscritti riusciremo ad arrivare. Però intanto questo video lo dedico a voi e grazie veramente a ognuno di voi per essere iscritti al mio canale e per vedere i miei video e per sopportarmi specialmente quando parlo veramente tanto. E niente, detto questo, io adesso vi lascio queste clip dei miei pelusini e grazie davvero ancora per questi speciali 3000 iscritti, davvero grazie. Detto questo, buona visione di questo video e al prossimo video. Ciao! 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 Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!